Non mi soffermo oltre su ciò. Vorrei invece condividere con voi una riflessione sull'anno che si avvia alla conclusione e su alcune linee di tendenza che ne emergono. Nel 2012 l'Unione Europea ha conseguito importanti risultati nel riportare sotto controllo la situazione economico-finanziaria. La crisi non è ancora dietro le nostre spalle, ma abbiamo superato la sua fase più acuta e individuato la strada per uscirne. Quando ci incontrammo un anno fa non era scontato che ci saremmo riusciti. Oggi, come ha di recente rilevato il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, possiamo registrare, cito, una relativa stabilizzazione delle condizioni di mercato e più in generale una cresciuta fiducia nella stabilità dell'area dell'euro. I timori che l'euro potesse risultare reversibile sono stati fronteggiati. Grazie.